Una delle più importanti innovazioni tecnologiche dell'anno si trova in questo oggetto. Dotato di funzione Rewind, così non avrete più bisogno della penna, e dotato anche di radio AM-FM. Pensate che questo oggetto anni 80 non contenga niente di innovativo? L'innovazione è dentro! Energizer Eco Advanced, la nostra migliore pila alcalina. Per prestazioni e durata. È la prima pila AA al mondo composta dal 4% di pille riciclate. Energizer, that's positive energy.